In via Umbria, in prossimità del polo scolastico, quotidianamente si crea un ingorgo a ridosso dell'ingresso e dell'uscita degli alunni da scuola. Peraltro il personale scolastico, dopo la sacrosanta chiusura della strada intitolata Falcone Borsellino, considerata la cospicua presenza di strisce blu nella zona, deve girare a lungo prima di trovare un parcheggio gratuito. Ed allora il Virabarone, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Sernia, ha preso carta Penna ed ha scritto una lettera al sindaco Castrataro e dall'assessore al ramo di Baggio per trovare una soluzione condivisa alle varie problematiche. Dunque, io come capogruppo del Movimento 5 Stelle ho scritto una nota indirizzata al sindaco, all'attenzione del sindaco e di tutto il Consiglio Comunale, perché esiste questa problematica. La mia ovviamente non vuole essere una polemica, ma semplicemente uno sprone affinché si risolva questo problema. Questo è un problema che va avanti ormai da anni, cioè da quando è stato istituito il polo scolastico qui, con l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco. E diciamo che il polo è un polo eccellente, anche se in pieno centro e quindi di conseguenza non si è provveduto, insomma la vecchia amministrazione non ha provveduto a creare un piano traffico che potesse evitare gli ingorghi che si creano ogni giorno all'entrata e all'uscita di scuola. Diciamo che più volte sono stata sollecitata come consigliere comunale di maggioranza da parte di genitori e di insegnanti per questo problema e quindi ho voluto porre all'attenzione questa problematica per trovare in maniera più cedere possibile una soluzione alla problematica. Cristofaro Carrino, genitore ed amministratore provinciale, aveva indicato una possibile soluzione ad Apollonio, aprire un ingresso nei pressi della Santa Maria Assunta oppure nel parcheggio del Fermi, attualmente chiuso per ristrutturazione. Poi la vecchia amministrazione non è stata confermata e la proposta è caduta nel dimenticatoio. Sarebbe ora il caso di rispolverarla. Gianni ho parlato con il sindaco e con l'assessore di Baggio e sono sicura che con le loro capacità sapranno sicuramente trovare una soluzione che poi tra le altre cose non penso che sia un problema molto difficile da affrontare, in quanto già qualche soluzione era stata ideata e pensata dal consigliere provinciale che poi è stato riconfermato. insomma che aveva già contattato la vecchia amministrazione per un piano strategico diciamo e poi fu tutto abbandonato. Io mi auguro vivamente che questa volta invece il problema si risolva perché in pratica gli insegnanti prima di trovare un parcheggio devono girare per ore, ore no, però insomma devono girare abbastanza anche perché le strisce blu, siamo completamente invasi da strisce blu e quindi loro che devono rimanere una mattinata intera devono parcheggiare la macchina in un posto più consono, cioè laddove non devono pagare il biglietto.